Buongiorno, mercoledì 10 gennaio in diretta per la rassegna di Nettuno TV. Benvenuto a chi ha scelto di seguirci attraverso il nostro streaming www.nettunotv.tv Andiamo subito a leggere i titoli delle prime pagine dei quotidiani locali a partire dalla prima pagina del resto del Carlino che è subito già pronta. Vediamo subito l'apertura dedicata al tema dei rifiuti. I rifiuti si cambia ancora, l'indifferenziata è porta a porta. La rivoluzione comincia da Santo Stefano, via Bidoni e Campania in strada. Da marzo 15 isole interrate per organico e vetro. Parte la raccolta di pannolini. Questa è la novità che interessa il quartiere Santo Stefano, poi presumibilmente si estenderà anche in altre parti della città. E poi ancora rifiuti, caso Roma, l'ira dell'assessore regionale all'ambiente Paola Gazzolo, smaltimento più caro in Emilia, falso la polemica con il sindaco di Roma Virginia Raggi. Ancora invece la fotonotitia dedicata ai graffiti sui muri, graffiti in cobumulte. Andiamo a vedere che cosa è successo. Quasi deserto il bando per la pulizia dei muri. Il comune pronto a riprovarci, poi possibili sanzioni per chi non rimuove le scritte. Sostanzialmente chi non chiede il contributo per pulire i muri imbrattati di casa propria rischia pure la multa. Pesano le assenze, siamo passati al tema del sciopero del CUP che ha annunciato venerdì, ma il CUP purtroppo che vede disagi quotidiani a causa di lunghe file alle quali gli utenti sono costretti. Il CUP è ancora a causa, centinaia in attesa al Mengoli e al Tiarini, proprio in un giorno ordinario. Ieri il giornalista verso il Carlino è andato a verificare, c'erano 100 persone, poi andremo a vedere anche all'interno in attesa, in un orario intorno alle 13 e venerdì ha annunciato lo sciopero proprio per denunciare questa carenza di organico che porta a questi disagi. Poi ancora passiamo invece alle elezioni politiche di marzo. Parlamentaria 5 stelle, in lista l'attore Veronica che per il momento si autocandida. Web, vita da eroi, due bolognesi sottotitolano gratis le serie tv, la storia è raccontata all'interno. Poi ancora andiamo a vedere invece la maxi operazione dei carabinieri del Rossi, riciclava i soldi della mafia, imprenditore ai domiciliari, stiamo parlando dell'operazione Stige, 169 RS in Italia, tra cui anche nella nostra regione, e uno Monterenzio per quanto riguarda Bologna. E Andrea Grillini, l'imprenditore arrestato, 47 anni di Monterenzio. Questa era la prima pagina della Carlino di Bologna, andiamo a vedere come sceglie di organizzare la sua prima pagina, Il Corriere di Bologna, che apre su una notizia che è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, ma che è molto importante per la nostra università. Unibo arrivano 113 milioni, premiati 14 dipartimenti su 15, quindi davvero un grande successo per l'Alma Mater, che frutterà anche tanti denari. Vediamo anche la foto del Rettore, decisamente non può che essere soddisfatto per quanto ha preso. Poi ancora, noi siamo pronti, il Pride degli infermieri partito dalla Sant'Orsola, notizia poi approfondita all'interno, e poi si parla del bilancio di previsione che è stato presentato ieri dall'Asp, città di Bologna, dal suo amministratore unico Borghi e dall'assessore alla Sanità Euro, Elfar Barigazzi. Tra le novità c'è la lotta alle nuove povertà, patto contro le nuove povertà, da averlo annunciato è appunto l'assessore Barigazzi nella giornata di ieri, che ha chiamato curi e sindacati. Il modello è quello sul lavoro. Asp e Comune si mobilitano, l'obiettivo è sostenere famiglie, eccetera, sempre più in difficoltà. Una fascia grigia che secondo un assessore è certamente in aumento. Poi vedremo altri particolari. E poi ancora invece una ostabile che è di proprietà dell'Asp, che l'Asp vorrebbe risistemare. Stiamo parlando, come vediamo in questa foto, della Baraccano, dopo il Nettuno Missione Baraccano. Monumenti abbandonati, simbolo da recuperare. L'Asp, proprietaria del santuario del Baraccano, che è chiuso al pubblico dal 2012, ovvero in seguito al sisma, vuole ristrutturare la chiesa come è stato fatto con il Nettuno. Questo è l'obiettivo che ci si pone. Poi ancora, se il classico, continuiamo a leggere la prima pagina, le notizie che poi sono tutte approfondite all'interno, se il classico snob la notte del classico, il Gavanni partecipa all'evento nazionale, il Minghetti no, non siamo una riserva. Poi ancora, stiamo parlando invece di sport, stadio CRB, Rebus Infinito, Casa Saraceni torna in campo. Questa era la prima pagina del Corriere di Bologna. Andiamo a vedere invece come organizza la Repubblica di Bologna, che è già qui pronta con la sua nuova grafica inaugurata recentemente. L'apertura è sui rifiuti, rifiuti e veleni, Gazzola Raggi, bugie sui costi. I 5 Stelle, l'Emilia smaltisce pure in Cina, l'assessore a Stizzita hanno un bel coraggio. La polemica riguarda il dibattito appunto con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che vorrebbe smaltire i rifiuti nella nostra regione, poi l'ultimo momento, c'è stato un dietro fronte, e la giustificazione ufficiale era che costa troppo nella nostra regione. Abbiamo visto che invece l'assessore Gazzolo parla di conti fatti male, i dati che, secondo i proposti, insomma, evidenziati dal sindaco di Roma, in realtà, secondo Gazzolo, non sono veritieri. Infatti l'assessore regionale all'ambiente smentisce la sindaca di Roma sui costi dello smaltimento. Secondo i dati forniti dalla regione, le spese per lo smaltimento dei rifiuti extra regione sono di 116 euro. A tonnellate non 200 mila, come affermato da Virginia Raggi. Non si capisce come abbiano fatto il calcolo, dice Gazzolo. Gli inceneritori in Emilia-Romagna, gli impianti principali per lo smaltimento sono Parma, Modena e Granarola Emilia. Questi punti dove poi dovrebbe avvenire lo smaltimento vero e proprio. Poi ancora un passaggio di politica. Casini in lista a Bologna agita al PD. Si stanno chiudendo gli accorti per quando riguarda le liste. Naturalmente gli alleati chiedono anche seggi sicuri che a questo punto non spetteranno candidati del PD ma ad alleati. Questo sta creando certi malumori. Poi ancora lo sport. Vediamo qui la fotonotizia. Il progetto del dallare è pronto ma resta congelato. Il rimpallo si trascina da un po'. Il Bologna aspetta il sindaco, il sindaco aspetta il progetto esecutivo. E siccome l'immobilismo regna sovrano, in città sono in tanti a sussurrare che forse il restalling non si farà mai. Eppure il progetto ci sarebbe. Questo è un approfondimento che poi fa all'interno delle pagine il giornalista Monari. Poi ancora altri lanci da spalla di prima pagina. Fico lancio alla campagna d'inverno. Una serie di incontri sull'educazione alimentare. La Bohème secondo Morgan. Poi ancora Pietra Renaria in briciole al Via, i restauri. E questa è le altre notizie appunto di Bologna. Poi andiamo a vedere invece il quotidiano sportivo. Passiamo allo sport. Questa fotonotizia dedicata a Bologna, al calcio. Verdi cambia idea. Prima di Natale aveva detto no al Napoli. Ora ci ripensa. Il suo agente quando torna dalle vacanze a Dubai prenderemo una decisione. e un contratto per cinque anni a due o due milioni e mezzo netti di euro a stagione. Rischiano di farlo capitolare. Il Bologna aspetta e prepara il rientro rosso-blu di Desmali e Avenatti. Sarà inserito in lista. Poi ancora invece la MotoGP. Dovizioso Ducati. Rinnovo difficile. Pilota chiede un maxi aumento. Andrea pretende un trattamento simile a Lorenzo che guadagna 12 milioni. Insomma un accordo difficile da stringere. Prima di andare invece a fare una carrellata sui titoli dei quotidiani nazionali andiamo a rivedere invece l'intervista che abbiamo realizzato ieri con una geriatra del Sant'Ursola sul picco dell'influenza. Sono tantissime le persone che sono a casa con la febbre. In questi giorni abbiamo avuto i dati della Sant'Ursola. Dal 20 dicembre ad oggi ci sono stati 77 ricoverati e un migliaio di accessi pensati al pronto soccorso per febbre molto alta. A spiegare come ci si contagia e come ci si deve difendere è stato per noi il geriatra, il dottor Pietro Calogero. Che andiamo a sentire? Effettivamente sia l'ultima settimana dell'anno del 2017 che la prima settimana e la settimana in corso del 2018 sono quelle che hanno dimostrato un non brusco aumento del numero di casi di influenza e questo in tutte le classi di età. È chiaro che i soggetti di età giovanile spesso non sono un problema ospedaliero, io sono un geriatra ospedaliero, mentre per l'influenza in età avanzata spesso i sintomi portano anche alla necessità di ospedalizzazione. Le posso chiedere come ci si contagia anzitutto? Il contagio avviene tramite le goccioline di saliva tipicamente, le goccioline di saliva che quindi vengono emesse con gli sternuti, con i colpi di tosse, ma che vengono trasmessi anche essenzialmente con le mani. Infatti una delle norme principali per ridurre la trasmissione dell'influenza è quello di effettuare un lavaggio accurato delle mani dopo essersi pulito il naso, dopo aver coperto la bocca per un colpo di tosse, per uno stornuto, utilizzando anche le soluzioni idroalcoliche che sono molto efficaci, con azione battericida e viricida è anche molto importante. Subito pronti i quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, apertura sulla politica, stersata le 5 stelle sull'euro, Di Maio non è ora di uscire, va anche la telefonata di De Benedetti su Renzi. Verso il voto i timori del centrodestra sulla Lombardia, Berlusconi e nessun incarico a Maroni. Tantissime notizie che in questi giorni si sommano. Poi ancora sul clima, vediamo il clima stravolto, Balanghe al nord, i paesi isolati, il deserto del Sahara in una inconsueta versione con un manto di neve a coprire le dune. Vedete che foto veramente molto particolare. E poi una ragazza invece subito dopo, a fare da contrasto questa immagine, è una ragazza in abiti estivi a Roma per festeggiare il compleanno davanti alla fontana di Trevi. Nel Sahara nevica e a Roma fa caldo, insomma davvero una cosa molto particolare. Nevicate come non se ne vedevano da tempo, in Piemonte e Valle d'Aosta addirittura una donna è morta nell'ambulanza, frenata dal maltempo, bloccata dalla neve, ma a Roma fa caldo, fiocchi anche nel deserto del Sahara. Davvero un clima, un clima stravolto. E poi ancora invece si parla dei dati Istat, questa volta positivi, occupati e crescita record, ma con i contratti a termine. Lavoro mai così dal 1977, le disparità di genere in busta paga. E questa è la buona notizia che ci arriva questa volta dai dati di Istat sul lavoro. Repubblica, siamo passati a Repubblica, politica ancora in primo piano, il PD a Grasso, uniti in Lombardia. Appello dei Renziani, ma vacilla il patto su Zingaretti nell'Asteo. Quindi la sinistra potrebbe andare divisa. Caos a destra su Fontana. Gelo, Salvini e Maroni, invece sulla decisione del governatore della Lombardia di non ricandidarsi, e Maroni appunto dice, sapeva tutto, nessuna intesa segreta con Berlusconi. Questa è la difesa di Maroni. E poi ancora vediamo, vediamo la foto notizia dedicata alla Corea. Corea è cinque cerchi di dialogo, accordo per le Olimpiadi. Si dialoga proprio a partire dalle Olimpiadi, con l'occhio incollato al canocchiali panoramici. sono in tanti a scandagliare le brulle colline oltre il filo spinato che delimita la zona smilitarizzata. C'è questo articolo che è all'interno e che parla insomma di questo accordo che può partire dallo sport. E poi ancora, con la pace Kim scaccia Trump, sport e diplomazia si intrecciano da tempo. Questo è il dato inconsueto sul quale a volte non siamo abituati a ragionare. Il precedente più illustre è il ping pong che preparò il disgelo USA-Cina all'epoca di Nixon e Mao. Anche le due Coree hanno una tradizione in questo campo a volte tragica. E poi l'approfondimento. Ancora andiamo a vedere il servizio di Repubblica. Migranti laureati in fuga. Nord Europa li tratta meglio e non si fermano in Italia. Quindi sapevamo che tanti migranti arrivano nel nostro paese, ma poi per andare altrove, soprattutto nei paesi del Nord Europa. Questo è per quanto riguarda Repubblica. Andiamo a vedere la stampa. L'apertura è sui dati Istat positivi. Lavoro per l'Italia, un record precario. Questo è come sintetizza la notizia alla stampa. Grasso Renzi verso un patto sulle regionali lombarde. Questo per quanto riguarda il tema della politica. Di Maio non si esce dall'euro. Gli occupati al massimo dal 1977. Siamo tornati al tema economico, ma i nuovi assunti sono quasi tutti a termine. Uno su dieci trova un posto fisso. Quindi davvero per l'Italia è un record precario. Il titolo è sicuramente una buona sintesi. TV inchiesta. TV origina dell'informazione. Internet non strega. Gli elettori. 9 italiani su 10 seguono il telegiornale. Vespa, il piccolo schermo. Influenza, il voto. Un dato che sapevamo. Le televisioni sono naturalmente molto influenti. De Benedetti. Ho sentito Renzi. Il decreto sulle popolari passerà. Questo è anche il dato economico. E poi ancora quest'intreccio tra politica e sport. La foto di quello che avviene in Corea. La strategia di Kim allontanare Seoul dagli USA. Trego olimpica tra le due Coree. Pyeongjang cerca di spingere Cina e Russia a nuovi accordi. Questa è la stampa. Andiamo a vedere il Carlino. Il Carlino che apre su un tema di costume. Difendo il maschio. Il caso molesti. Appello di Catherine Deneuve. 100 donne VIP francesi. La seduzione non è violenza. Troppe punizioni sommarie per approcci maldestri. Questa è la posizione, forse un po' controcorrente, di queste attrici e donne famose. Poi ancora vediamo le notizie che sono rilanciate da Bologna. L'attore Veronica in lizza con il Movimento 5 Stelle. Bologna a tutti i nomi del Movimento. L'idea multa è graffiti. Il Comune punta il dito contro i privati che non chiedono le sovvenzioni per poter ripulire i propri muri. E pensa alle multe. Napoli, la nuova metro è troppo stretta. I treni non ci passano. Gli altri casi di progetti sbagliati. E naturalmente di tanto spreco di soldi. 5 Stelle, Di Maio ci ripensa. Non si può lasciare l'euro. Poi ancora Fontana in bilico. Stiamo parlando sempre di politica. Lombardia, Berlusconi e Salvini ai ferri corti. Lombardia, Berlusconi e Salvini ai ferri corti. Poi ancora si parla di Sanremo. Star straniere canteranno l'Italia. Baglioni, Arruola, Unziker e Fabino. Fantasia, Sanremo. Il resto del Carlino. Andiamo a vedere invece l'apertura di Avvenire. Il lavoro ai massimi ma resta precario. Anche il quotidiano della CEI sceglie di aprire sul dato economico. I dati stati positivi sul lavoro. Dati positivi a novembre con la disoccupazione in discesa all'11%. 65 mila posti in più. Ma il 90% dei nuovi contratti è a termine. E poi ancora la Corea. Tra le Coree riparte il dialogo olimpico. Il nord ai giochi di Pyongyang. Telefono rosso sulla difesa. Poi ancora parliamo di politica. C'è l'appello di Galantino e Padua. Renzi frena sul deficit al 3% di maio sull'euro. Andiamo a vedere il titolo. I partiti siano credibili e partono le retromarce. Il segretario della CEI avverte. Il popolo capisce chi vende fumo e spinge sul sostegno alla natalità. Nel PD scende in campo il ministro dell'economia. Non tutte le misure sono realizzabili. E i toni della campagna elettorale dem virano verso la sostenibilità. svolta al Movimento 5 Stelle, l'abbiamo detto, non è il momento di uscire dell'euro. Un passaggio ancora sul giornale. Invece vediamo Le Monde riabilita Berlusconi. L'apertura è politica. Rettromarcia francese. Il giornale della sinistra si scusa. Il Cavaliere mai mafioso. Maroni, gelo con Salvini, centro-destra al 39,2%. Annunziata spara a zero su Fabio, su Fassio, scusate Vespa, i lavori della Badessa Rossa che invoca il Bavaglio Rai. E poi insomma anche altre notizie del giornale. Prima di ritornare alle pagine interne dei quotidiani locali, andiamo a ripercorrere qualche dato sulla presenza turistica nella nostra città durante queste festività. Ieri era ospite della nostra prima edizione del Tg, la presidente di Bologna Welcome, Celso Lescrilli, che ci ha dato un po' di dati che sono molto positivi. Sentiamo. Direi che chiudiamo un anno positivo, ancora un ennesimo anno positivo per quanto riguarda il turismo della nostra città. I dati della regione ci danno le crescite dell'11% degli arrivi e il 18% delle presenze. Questo vuol dire che la permanenza e la durata del soggiorno si sta allungando, che era uno degli obiettivi che ci eravamo dati come Bologna Welcome, quello di aumentare il numero di notti a Bologna di chi viene nella nostra città, quindi per allargare l'offerta. Stiamo lavorando anche con la città metropolitana, quindi con la ex provincia e con tutto quello che è il territorio bolognese. Per quanto riguarda il periodo natalizio, ci ha dato molta soddisfazione la campagna che Bologna Welcome ha fatto, con la distribuzione di oltre un milione e mezzo di brochure in tutta Italia attraverso i giornali principali, che ha portato ad avere pernottamenti anche nei periodi che di solito erano abbastanza scarichi, che vanno tra Natale e Capodanno. C'è stato il Capodanno sotto tono, secondo me, dal punto di vista dell'offerta in Piazza Maggiore, però l'offerta complessiva, abbiamo avuto la diretta di Canale 5 all'Unipro Arena, eccetera, ha portato dei risultati, soprattutto, come dicevo prima, la campagna promozionale che abbiamo fatto sul mercato italiano. Siamo passati alle pagine interne del resto del Carlino, andiamo a vedere il tema dei graffiti sui muri. Chi non pulisce paga, svolta sui graffiti, condomini nel mirino, bando flop. Andiamo a vedere cos'era successo, finanziamenti dai 500 ai 3.000 euro per prendersi cura della propria casa nei successivi due anni. Le adesioni, molte richieste di informazioni, ma per ora poche adesioni concrete, c'è tempo fino alla fine di febbraio. Però cosa succede? Praticamente è ignorato lo stanziamento di fondi per ripulire i muri privati e il Comune ha intenzione di replicarlo, ma avverte i cittadini di possibili e future multe. Infatti, Malagoli, che è l'assessore che ha la delica alla sicurezza, ma anche al decoro urbano, dice faremo il punto a fine febbraio, aspetta anche agli amministratori farsi carico dell'operazione. E sono soltanto tre le domande ricevute da Palazzo d'Accurso da parte dei privati per ricevere il contributo di cui parlavamo. La campagna ha chiamata muri puliti e protetti, a cui l'Aggiunta Merola tiene particolarmente. In realtà sono molto poche, la fase sarà anche di rodaggio, ma seppure una secondo bando, dopo la naturale scadenza dell'attuale, dovesse avere poche adesioni, allora potremmo sanzionare i condomini. Insomma, questi muri vanno puliti in un qualche modo. E quindi tanto vale. Una similina provocazione, quasi un'iperbole, quella di Riccardo Malagoli. Insomma, in un qualche modo questi muri vanno puliti, sembra che ci debbano pensare poi i residenti. Questo per quanto riguarda i muri, ma c'è anche un approfondimento che riguarda i rifiuti. E questo interessa gli abitanti nel quartiere Santo Stefano, ma probabilmente sarà un laboratorio che poi vedrà anche altre implicazioni all'interno della città. Il futuro nel sacco. Santo Stefano, via Cassonetti, in arrivo 15 nuove isole ecologiche, nei punti interrati organico, vetro e lattine. Porta a porta, invece, per l'indifferenziata. Si parte il 5 marzo. La campagna, vediamo, ancora stiamo leggendo, la campagna informativa del Comune, assemblea il 22 febbraio. Quindi i tempi non sono sicuramente molto ampi. Città più pulita, una delle isole ecologiche interrate già in funzione in città. E poi ancora, sulla questione dei pannolini e pannoloni, potranno essere conferiti dove esiste il bidone con l'apposita scritta. Per tutte le informazioni basta andare sul portale di Palazzo d'Accursio, Iperbole, e si hanno altre indicazioni. Dove si trovano le nuove postazioni nel quartiere? 19 in tutto, e qui c'è anche l'elenco di quali sono, le postazioni di bidoni fuori terra per bottiglie e lattine, anche in questo caso, tutte le indicazioni. Poi ancora, si parla anche del dibattito che c'è stato. Ecco, il dibattito che c'è stato tra l'assessore regionale Gazzolo e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Gazzoli era su Roma, sparano cifre in libertà, l'assessore regionale sul dietro fronte per l'invio dell'immondizia capitolina. Insomma, in Emilia costi alti, questo dice Virginia Raggi, per motivare il no all'invio dei rifiuti. In realtà abbiamo visto che i 200 milioni sono calcolati di Virginia Raggi, secondo Paola Gazzolo non sono reali, ne hanno calcolati decisamente meno, poco più, nella metà sui 112 milioni. Questo per quanto riguarda i rifiuti, ma io volevo approfondire, passando dalle pagine del resto del Carlino all'interno delle pagine del Corriere di Bologna, che l'abbiamo ripreso in mano, sulla questione invece del bilancio di previsione dell'ASP, perché ha dei risvolti molto concreti per la nostra città, sia per i servizi che si vorrebbero potenziali, ma anche per gli immobili che si dovrebbero ristrutturare. Allora, andiamo a vedere quando la povertà è dietro l'angolo. Casa, lavoro, servizi, il patto dell'ASP, questa zona grigia che si sta purtroppo ampliando per chi perde il lavoro, c'è la fragile o anche chi ha una malattia in casa, insomma, ha tante ragioni. L'assessore alla sanità Barigazzi e l'amministratore dell'azienda per i servizi alla persona lanciano, che è Gianluca Borghi, lanciano un'intesa sul modello di quella già trovata con la curia per l'occupazione, per sostenere quelle famiglie, quei singoli del ceto medio, che rischiano di precipitare in condizioni di indigenza. È una fascia che, secondo Barigazzi, è decisamente in aumento. 112 mila euro, risultato stimato di esercizio per il 2018, che prevede un avanzo di 122 mila euro. Poi, 95 nuovi alloggi, sono le case che nasceranno fra il recupero dell'ex convento di Santa Marta e altri interventi. Dicevamo, alloggi, questi sono alloggi protetti per anziani, per realizzarli si dovranno sistemare alcuni immobili, tra questi c'è anche il convento di Santa Marta, in strada maggiore, che per tanti anni se ne parlava della sua destinazione. Insomma, alla fine, sembra che possa essere questa. 9,9 mila utenti assistiti nel corso dell'anno, che si è appena concluso, nell'Help Center del Piazzale Est. Poi c'è il piano freddo, con 292 posti, insomma, tante altre realtà. Ancora andiamo a leggere Barigazzi. Penso alle persone che non sono poveri estremi, ma che hanno tanta rabbia perché non c'è lavoro, perché si perde un reddito che dava sicurezza. L'età media si è molto alzata, non era mai successo di vivere così a lungo e in così tanti è un fatto positivo, ma che richiede tanto lavoro da pensare, perché alla fine gli anziani hanno bisogno di essere assistiti. Dicevamo gli immobili che in questo modo l'ASP deve ristrutturare, Baraccano e Santa Marta, e il co-housing per disabili, la riqualificazione che guarda al sociale. Qui vediamo il santuario del Baraccano, una chiesa, nella monima piazza di proprietà dell'ASP, e fatta eccezione per alcune occasioni è chiusa al pubblico dal maggio 2012, quando ha riportato dei danni in seguito al terremoto. Ora l'obiettivo è quello di ristrutturare un po' tutto. Così sarà ad esempio per l'ex convento di Santa Marta, dove saranno ricavate una parte degli alloggi che è l'ASP destina agli anziani soli. Quindi il Baraccano verrà ristrutturato di per sé perché merita, invece per quanto riguarda il convento Santa Marta sarà proprio destinato ad alloggi protetti per anziani. Andiamo a sentire proprio la spiegazione di questi due filoni, nuove povertà e aiuto agli anziani, che per il 2018 vogliono essere le priorità dell'ASP. Partiamo dalle affermazioni dell'amministratore unico dell'ASP a città di Bologna, Gianluca Borghi, che spiega del perché e del modo dell'aiuto agli anziani. Sentiamolo. Un bilancio positivo che prevede anche una innovazione molto rilevante dal punto di vista degli investimenti, se è vero come vero che tra le molte altre cose noi riusciremo a raddoppiare il numero degli alloggi con servizi, alloggi protetti per persone anziane autosufficienti che ritrovano sicurezza, ritrovano integrazione all'interno di una rete di alloggi, che già oggi vede la presenza di all'incirca 100 diverse realtà, 100 diversi appartamenti, che con questo piano degli investimenti, ambizioso ma assolutamente concreto e sostenibile, che stiamo iniziando ad attivare, raddoppieranno. Una risposta ad una richiesta sempre più frequente, se è vero come vero che ad ASP giungono ogni settimana tre nuove richieste per accedere a questa rete. Una rete che evidentemente sarà realizzata dalla nostra azienda in piena, assoluta collaborazione con l'amministrazione comunale, con i servizi sociali e territoriali, che avranno un ruolo importante anche nel definire gli ingressi all'interno di questa opportunità di welfare generativo, innovativo, che sulla base delle migliori esperienze anche europee noi intendiamo sostenere. Possiamo farlo proprio grazie ad una gestione efficace ed efficiente del nostro patrimonio, un patrimonio che vogliamo e vorremmo sempre più mettere a disposizione di innovazioni dell'abitare, come è accaduto anche recentemente con l'apertura del primo co-housing pubblico per giovani in questa nostra città. E sull'assistenza invece a quella fascia grigia che sta aumentando le nuove povertà sentiamo invece l'assessore comunale al welfare e alla sanità, Giuliano Barigazzi. Io credo che questo sia un altro grandissimo tema che porrò all'attenzione di tutti i soggetti della città, pubblici e privati, perché credo che lì sia nidi davvero uno dei grandi problemi nel nostro futuro. Nuove povertà non significa la povertà estrema che siamo abituati a rappresentarci, ma significa anche proprio quell'impoverimento del ceto medio. Io lì credo che noi dovremmo fare delle politiche rivolte a tutti, dai giovani agli anziani, invece lì perché le povertà purtroppo oggi si anidono anche in chi lavora poco, in chi lavora male, nelle famiglie dove uno perde il lavoro, dove c'è qualche problema di carattere sanitario che fa sì che molto del tuo reddito magari va in una certa direzione. Una fascia grigia che secondo lei è in aumento e ha in mente già delle risposte concrete o delle proposte che vuol fare? No, io credo che le proposte saranno da... sì, è una fascia grigia che aumenta, io non ho dubbi. Le risposte io credo debbano derivare da un'integrazione delle politiche che faremo, politiche per la casa, politiche per il lavoro, politiche sociali, devono diventare di nuovo, ecco perché io qui mi piacerebbe riproporre quest'idea di una cabina di regia welfare a Bologna che è una cabina di regia fatta da soggetti istituzionali ma anche dalle fondazioni, dal sindacato, dal terzo settore, dalla curia, recentemente ne ho anche parlato proprio con il bescovo di questo e credo che una cabina di regia proprio tesa a parlare di nuove povertà possa trovare delle soluzioni che integrino più politiche perché non si tratta di fare solo una politica ma di integrare le molte politiche che ci sono perché lì si va dal lavoro alla casa al sistema di welfare. Ritorniamo al resto del Carlino, al tema delle file per il CUP, la pazienza è finita, da Mengole e Tiarini le code superano quota 100. Vediamo un utente, vediamo ancora la foto, ecco la pronta, un utente mostra il biglietto preso ieri al Tiarini alle 13.26, erano in coda 109 persone, già giovedì scorso nello stesso CUP i cittadini avevano protestato per le attese, l'orario di chiusura era slittato di un'ora. Rabbia e rassegnazione, l'altro pomeriggio c'erano 95 persone prima di me, oggi la stessa situazione. Davvero una maxi attesa per quanto riguarda i servizi. C'è anche un'intervista che è stata realizzata da Donatella Barbetta, fatta a Mauro Moruzzi che è l'inventore del CUP, il sistema elettronico di accesso alla sanità, è stato direttore generale e poi direttore scientifico, ora è il presidente del comitato scientifico del CUP. Troppa sottovalutazione, lancio il CUP automatico. Moruzzi sul cellulare e la proposta per la visita. Moruzzi spiega che gli dispiace, non è colpa del CUP che si può paragonare una Ferrara in grado di dare molte prestazioni a meno che non resti senza benzina, di fatto. Quindi poco personale, il sistema è stato inventato per abolire le file e ora non possiamo farle fare davanti agli sportelli. Tutta Europa vuole il CUP e noi invece dopo 27 anni dobbiamo valorizzare questo potenziale costruito. Il problema è soprattutto la mancanza di operatori. Andiamo avanti a sfogliare le pagine del resto del Carlino, questa notizia che abbiamo letto che riguarda Monterenzio e l'imprenditore bolognese che aiutava a riciclare i soldi dell'Andrangheta, il riciclatore bolognese del clan, con lui 50 mila euro a settimana. Le telefonate dei boss, domiciliari, l'imprenditore Andrea Grillini. L'operazione esige 169 in manette, ha riguardato arresti in tutta Italia, per cui anche nella nostra regione e anche nella nostra città, appunto con Monterenzio. L'inchiesta ha portato alla luce gli affari della Cosca, farao Marincola, di Ciro nel sud e nord Italia e anche in Germania. Il settore erano l'alimentare, i rifiuti, i migranti e gli appalti. E' il manager, questo Grillini, che è stato arrestato, per il quale vediamo anche la foto, è il manager di un team che corre in superbike e metteva fatture false e in questo modo riusciva a riciclare appunto i soldi. Poi ancora un passaggio di politica. Andiamo a approfondire quello che era stato già annunciato nella prima pagina. Ieri il primo vertice con Renzi sulle liste. Il PD obbedisce tra i malumori, spazio agli alleati nei seggi sicuri, casini in pole per il Senato. E qui vediamo alcuni pretendenti di questi posti in Parlamento. Giulio Sant'Agata, Ima Petitti, Pierferdinando Casini. Ci sono già parlamentari come Francesca Puglisi, Andrea De Maria, ma anche degli assessori regionali, come abbiamo detto, Ima Petitti, Elisabetta Gualmini, Luca Rizzonervo, l'assessore alla sanità che ora di fatto è disoccupato dopo le sue dimissioni, Gianluca Galletti e Stefano Cagliandro. Questi sono i nomi che girano. C'è il Prodiano Sant'Agata, cresce l'ipotesi Rizzonervo e anche quella di Cagliandro. Quindi davvero tante cose che si stanno un po' risistemando. Per quanto riguarda invece la lista, liberi uguali, ieri c'è stata l'assemblea al Circolo Bellaria di San Lazzaro. Liberi uguali, l'ok dell'assemblea, Bersani ed Errani si scaldano. Parte la sfida agli ex compagni. Per il momento, Basco Errani nel listino del Senato, Pierluigi Bersani e la Camera sotto le due torri, due bighe che hanno sbattuto la porta e sono usciti fragorosamente dal PD, guidano la pattuglia dei candidati di libri uguali. La nuova aria a sinistra dei DEM che ha come candidato alla presidenza Pietro Grasso. La lista è stata approvata ieri sera, ma per ora è solo una proposta. Le candidature definitive andranno infatti vagliate e decise dai vertici del neonato partito. non sarà semplice perché, come è facile intuire, i nomi di questo calibro fanno gola a molte e molte zone del paese perché fanno naturalmente da traino. Il movimento, stiamo parlando dei grillini, ma sempre di politiche, è l'unica speranza. La sinistra è come la vecchia DC, l'attore Paolo Maria Veronica si è autocandidato con i grillini. E questo per quanto riguarda le pagine interne del Carlino. Volevo andare a vedere, prima di ritornare ancora al Corriere, invece la Corriere, le pagine della Repubblica. Eccole qua, già pronte. Le pagine di Repubblica dove si parla dello stadio. Ecco, siamo già all'interno. Il caso Dallara, stadio pronto per il restyling, ma per ora non si parte. C'è anche un riassunto che viene fatto dal giornalista Simone Monari, che ha scritto l'articolo, i costi dell'operazione, i costi solo il restauro dello stadio, balla tra i 60 e i 70 milioni. L'intera cittadella della moda, comprese le opere di urbanizzazione già prevista, monta circa 200 milioni. Il progetto è pronto, il Comune lo aspetta, ma il Bologna non lo manda. Questione di conti che o lievitano o comunque non tornano. Lo stadio nuovo si mormora ora da più parti nella zona fiera del vicino Parco Nord, oppure di Villa Palavicini, ma sin qui si è ragionato solo sul restyling. Insomma, fantasie che potrebbero poi anche concretizzarsi, però insomma di dove potrebbe sorgere anche questo nuovo stadio. Ecco il piano, 27 e 28 mila posti, un ristorante con vista su San Luca, un tetto trasparente per la torre di Maratona. Questo per quanto riguarda lo sport, poi andiamo a vedere invece, perché ieri è stata presentata anche la nuova campagna di incontri di FICO dedicati all'educazione alimentare. 40 eventi in tre mesi, il fatturato ha già toccato i 9 milioni di euro. Sono stati presentati anche i dati di questo primo mese e mezzo, due mesi di apertura, oltre 500 mila visitatori e 9 milioni di euro di giro d'affari. Questo è il bilancio di Italy che ha aperto il 15 novembre e secondo la donatella Grazia, responsabile di eventi del parco, siamo oltre le aspettative. Andiamo a sentire ora il presidente della Fondazione FICO, Andrea Segre, che ha presentato appunto questa serie di incontri dedicati all'educazione alimentare e alla dieta mediterranea, che è nostra, la pratichiamo poco, ma è veramente un elisir di salute. Andiamo a sentire l'intervista di Mario Giuliante. Oggi noi presentiamo due palinsesti che ovviamente si incorociano. Da una parte FICO Italy World, che presenta il mese dedicato agli animali, c'è Sant'Antonio Abate il 17, con un importante convegno sulla zootecnia in Italia, con la partecipazione del ministro Martina, dell'assessore Caselli, e da una parte e dall'altra iniziamo anche a presentare il palinsesto molto ricco, 90 eventi nei primi tre mesi della Fondazione FICO, con interventi che ruotano davvero attorno alla sicurezza alimentare, alla sostenibilità, che è un po' poi l'obiettivo del parco tematico, quello di parlare di educazione alimentare, soprattutto ai più piccoli, ma non soltanto. Un evento di questo tipo a livello di educazione alimentare, cioè come siamo messi anche in Italia, sono utili? Io direi proprio di sì, nel senso che noi siamo un paese, nonostante FICO innanzitutto, ma è nato anche per questo, nonostante questa straordinaria biodiversità vegetale animale, un numero di marchi di DOP, GP, che è il più elevato in Europa, mangiamo male. purtroppo la dieta mediterranea, che è pure nata in Italia, nel Cilento, come sapete bene, che è patrimonio dell'UNESCO, se guardiamo i dati che noi all'Università di Bologna abbiamo esaminato, in Italia siamo il paese che mangia meno mediterraneo rispetto a tutti gli altri che si bagnano su questo mare. è solo per fare un esempio di quanta strada dobbiamo fare. Andiamo a vedere le pagine interne invece del Corriere di Bologna, ecco qui pronto, andiamo a vedere la notizia che viene riportata con grande evidenza, che riguarda i risultati ottimi e le prestazioni del nostro Ateneo. L'eccellenza targata ancora Unibo, premiati e finanziati 14 dipartimenti, dal MIUR 113 milioni in 5 anni, escluso solo scienze mediche e chirurgiche. Il nostro Ateneo è un vero fuoriclasse, raccoglie l'8,4% del finanziamento totale del Ministero, grazie a tutte queste ottime prestazioni praticamente in tutti i dipartimenti. Il Rettore ha un risultato molto positivo che conferma l'elevata qualità della nostra ricerca. Da sapere, lo scorso maggio il MIUR aveva diffuso un primo elenco di 350 strutture che potevano concorrere all'assegnazione del fondo per i dipartimenti eccellenti. L'Alma Mater era presente con ben 28 dipartimenti su 33. In luglio il Senato ha completato l'elenco dei 15 destinati a concorrere ai fondi. Oltre ai 14 che avevano ottenuto il massimo punteggio dal Ministero ha aggiunto il Day di Ingegneria. Ieri è stato pubblicato l'elenco dei premiati con questo ottimo successo, davvero quindi anche una buona notizia anche per i tanti fondi che arriveranno, quindi insomma un premio che contribuirà e renderà ancora migliore il nostro Ateneo. Una carellata invece sulle pagine di provincia del resto del Carlino, a partire da Budrio, la baby gang del presepio, scovati giovani che nel corso delle festività hanno danneggiato ripetutamente la natività itinerante di Budrio. Si tratta di quattro minorenni che sono stati identificati grazie alle registrazioni delle telecamere installate dall'amministrazione comunale. Qui abbiamo anche il sindaco di Budrio che mostra questo presepio che è stato più volte vandalizzato. Questo è Budrio, poi ancora Casalecchio e Valsamoggia attese disarmanti. Zola, residenti in ferociti per l'eccessiva durata della chiusura delle sbarre e passaggio a livello. Possono arrivare fino a 8 minuti con problemi di traffico e smog. Insomma, quindi un bel problema. Poi ancora invece, Monte San Pietro assalto con masse e scalpelli devastata la casa del consigliere Movimento 5 Stelle. Per 40 euro i ladri provano con un danno di 4.000. Qui vediamo anche la foto di come è stata vandalizzata la casa di questo consigliere grillino. Poi ancora San Lazzaro, si scopre San Lazzaro di Sabena e Valle dell'Idice, però in questo caso parliamo di San Lazzaro, si scopre terra d'olivi, premiato l'olio dell'azienda Bonazza, recuperato e messo in produzione un cultivar nel Parco dei Gessi. Primo premio, insomma, qui vediamo anche l'immagine. Poi ancora Loiano, il Comune, stiamo leggendo qui, il Comune compra il chiosco di Bie Garibaldi, Danilo Zappaterra, Movimento 5 Stelle, soldi buttati via. La baracchina costerà 49.000 euro e sarà trasferita alla fondazza. Castel San Pietro, parliamo ancora di rifiuti, nuova raccolta differenziata, via l'informazione porta a porta. Da oggi 16 addettiere illustreranno le modalità di raccolta. Dopo le sette assemblee pubbliche che si sono tenute nei mesi scorsi, nei giorni a venire saranno contattate 10.800 utenze, perché si cambia appunto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. È il momento di fare il nostro break pubblicitario, poi rimanete con noi perché continuiamo la lettura dei quotidiani di oggi, 10 gennaio 2018.